ciao ragazzi sono ringo sono qui per ricordarvi che il 31 dicembre naturalmente la notte di capodanno io e giuliano palma saremo lì a pordenone quindi per gli amici del friuli del veneto zone di limitro per venite a trovarci saremo in piazza 20 settembre quindi giuliano palma suona e io faccio un dj7 e faremo un capodanno insieme brinderemo insieme vi voglio messico e nuvole la faccia triste dell'america